Buongiorno a tutti amici e bentornati qui su Tech Today, io sono sempre Emanuele e oggi vi andrò a parlare di un nuovo smartphone di casa Redmi, ovvero il Note 11, cosiddetto liscio, dispositivo che potrebbe far gola a moltissimi di voi per via di dimensioni in un certo senso compatte al netto di prestazioni. Non voglio spoilerare troppo, quindi prima di partire con la recensione vi chiedo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche dei video futuri che verranno caricate e naturalmente di guardare i nostri social Instagram, nonché canale Telegram, dove quotidianamente vengono pubblicate le migliori offerte del panorama tecnologico. Detto ciò mettetevi comodi perché vi parlo proprio di lui, Redmi Note 11. Come detto nell'introduzione di questo video, Redmi Note 11 probabilmente spicca e vi farà ingolosire per l'acquisto grazie a dimensioni contenute e peso contenuto. Parliamo infatti di un terminale con dimensioni pari a 159,87 x 73,87 x 8,09 mm di spessore, il tutto per un peso di 179 grammi. Il grip peraltro è aiutato ulteriormente proprio dal design che adotta questo smartphone. Parliamo infatti di linee piuttosto squadrate seppur i bordi risultano un po' smussati. Questo come avvenuto per il Redmi Note 11 Pro 5G significa che non possiamo tenerlo in piedi da solo, dovremo comunque ottenere sempre un supporto. A parte questo però il design e il look è decisamente piacevole. Troviamo materiali plastici per carità sia per i bordi che per la scocca, ma proprio la scocca poi in questa colorazione definita Twilight Blue è decisamente appagante per la vista. Soprattutto perché un po' l'effetto glitterato che ci regala questa colorazione fa sì che il dispositivo non trattenga per nulla sporco e impronte in generale. Sul retro troviamo poi il comparto fotografico, decisamente poco poco sporgente, dove vengono inglobate 4 ottiche più un flash LED. Ad ogni modo in confezione trovate anche la cover di protezione, il che non guasta, soprattutto quando è gratis. A parte questo, sui profili nella parte superiore troviamo l'ingresso jack da 3,5 mm, troviamo poi il trasmettitore a infrarossi, secondo microfono per riduzione dei rumori ambientali e il primo dei due speaker, in quanto il secondo è posizionato proprio nel profilo inferiore, dove viene accompagnato dal microfono principale e l'ingresso USB Type-C per la ricarica e supporto OTG, ma niente uscita video. Ebbene sì, il Redmi Note 11, nonostante la sua economicità sul mercato, offre un suono stereo. Parliamo di un suono comunque non proprio corposo a livello di bassi, ma dall'elevato e generoso volume, che soprattutto non distorce proprio ai massimi livelli. A parte questo, con i vostri auricolari cablati tramite il jack da 3,5 mm, potrete comunque beneficiare di un suono migliore e più avvolgente. Assente però il supporto alla radio FM, quindi gli auricolari li sfrutterete unicamente per la fruizione di contenuti multimediali, audio, video, serie tv e quant'altro. Sul profilo destro invece troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione, che ingloba anche il sensore per impronte digitali. Una tecnologia che personalmente, per quanto possa essere di vecchia generazione, io preferisco, per rapidità e affidabilità proprio nello sblocco. Sul profilo sinistro troviamo invece il vassoio delle SIM, che è in grado di ospitare ben due SIM in formato nano, con possibilità di navigazione in 4G+, su entrambi gli slot, e poi un ulteriore slot per microSD, a espandere la memoria integrata con supporto fino a 1TB, il tutto senza rinunciare alla funzionalità del dual SIM dual standby. E già che ci siamo a livello di connessione, posso dire che questo dispositivo ha sempre agganciato il segnale 4G+, è sempre stato costante ed affidabile proprio nella ricezione del segnale, permettendomi quindi di navigare anche a velocità piuttosto discrete. Certo, non le stesse che abbiamo raggiunto con Redmi Note 11 Pro 5G, ma tutto sommato più che appaganti per la quotidianità e quindi il download di serie TV o comunque sia visione di contenuti multimediali in genere. Passando sul frontale, ci avvaliamo di un display di tipo AMOLED con risoluzione Full HD+, ed una diagonale da 6,43 pollici. Il tutto è condito da un refresh rate a 90 Hz, mentre per quel che riguarda la frequenza di campionamento al tocco raggiungiamo i 180 Hz. Devo dire che non è il miglior display che abbia visto su un terminale, ma ad ogni modo la frequenza di aggiornamento rende il tutto un po' più piacevole, anche se questi 90 Hz sono fissi, non è ancora disponibile uno switch dinamico proprio delle frequenze a vantaggio del risparmio della batteria. In realtà non è che ce ne sia bisogno, perché poi vi dirò proprio per la batteria, beh, questo Redmi Note 11 conferma un po' tutta l'eredità della serie Note, ovvero ottima autonomia. A parte questo, il display, beh, vi dico che non è proprio dei migliori perché con il suo profilo originario offre dei colori in un certo senso slavati, un po' freddi più che slavati, però a livello software potete agire su questa calibrazione e quindi rendere il tutto più piacevole proprio alla vista. Manca il supporto ai contenuti HDR, ma è presente invece il supporto a DRM Widevine di livello 1, che udite udite viene riconosciuto, almeno in parte, anche direttamente su Amazon Prime Video. Quindi sotto questo ambito, a livello multimediale, il Redmi Note 11 è più che promosso. Vediamo più da vicino cosa muove questo Redmi Note 11 a livello hardware e quindi a livello prestazionale. Infatti il dispositivo di casa Redmi si dota di una CPU Snapdragon 680 con un clock a 2.4 GHz e processo produttivo a 6 nanometri. A questo si affianca la GPU Adreno 610 e 4 o 6 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e 64 o 128 GB di storage interno di tipo UFS 2.2. Complice probabilmente l'ottimizzazione software che l'azienda ha dedicata a questo dispositivo, devo dire che nonostante le velocità delle memorie non siano le più veloci sul mercato, questo Redmi Note 11 si muove in maniera impeccabile all'interno del sistema. Vi permette tranquillamente di effettuare tutte le operazioni che andate a richiedere, compreso il gaming. Certo, dettagli grafici non proprio al massimo, ma ad ogni modo il frame rate risulta sempre costante e comunque la giocabilità è più che piacevole. Devo però dire una cosina negativa, nel senso che questo Redmi Note 11 non è proprio una scheggia, infatti il cambio da un'applicazione all'altra non avviene in tempi super rapidi. Per carità non parliamo di minuti, non parliamo neanche di secondi, parliamo per carità di frazioni di secondo rispetto ad altri dispositivi, ma qualcuno che magari previene da terminali magari un po' più performanti sicuramente noterà la differenza. Premesso ciò però il dispositivo, come vi dicevo, si muove in maniera più che onesta e soprattutto non ho ravvisato alcun lag o alcun rallentamento nell'utilizzo quotidiano. Infatti a livello software abbiamo la MIUI 13 basata su Android 11 e patch di dicembre del 2021. E come già detto, peraltro terminale, la MIUI 13 al momento non porta alcun giovamento significativo rispetto alla MIUI 12, se non per il fatto che al momento, ripeto, questa si muove in maniera impeccabile senza alcun bug di rilievo. Altra cosa che voglio sottolineare è che per questo Redmi Note 11 l'azienda finalmente ha risolto il problema del sensore di prossimità, quindi tranquillamente potete portarlo all'orecchio durante una chiamata senza avere il fastidio di pigiare tasti a profusione con la vostra guancia. E oltre a questo anche il sensore di luminosità lavora piuttosto bene. A tal proposito non ho detto prima per quel che riguarda il display che questo può raggiungere la luminosità di picco di 1000 nits. Non ho potuto testare se questa luminosità sia reale, ma posso dire che sotto luce diretta del sole comunque il display si vede più che bene. Assente la radio FM, ma è presente l'NFC per i pagamenti in mobilità. Abbiamo poi un Bluetooth 5.0 e un Wi-Fi di tipo dual, oltre che a un GPS a single canale, ma con supporto ai satelliti Galileo. Tutti questi sensori lavorano davvero bene e quindi risultano impeccabili nell'utilizzo quotidiano. La batteria invece è da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 33 W, il che ci permette di ricaricare il dispositivo da 0 a 100 in soli 60 minuti. Ottima autonomia, ottima davvero, perché comunque con lui riuscite tranquillamente a portarvi a casa una giornata a stress. Se siete utenti un po' più comuni, usiamo questo termine, tranquillamente arrivata a un giorno e mezzo barra due. Nulla da dire, insomma, rispetto ad altri dispositivi della serie Note, se non continuare a fare i complimenti proprio per l'autonomia che ci regala questa serie e questo dispositivo in particolare. Cosa invece dolente è il comparto fotografico, dove sul posteriore abbiamo appunto quattro ottiche, di cui una principale da 50 megapixel con apertura f1.8, a cui si accompagnano due sensori da 2 megapixel, uno macro e uno dedicato alla profondità di campo con f2.4 e infine un ultrawide da 8 megapixel f2.2 e field of view da 118 gradi. Per quel che riguarda la selfie camera, invece, abbiamo una 13 megapixel con apertura f2.4, il che ci permette comunque di sbloccare il dispositivo anche tramite un lock face. A parte i numeri, però, devo dire che qui siamo davvero sotto tono per quel che riguarda la resa fotografica. Gli scatti, infatti, risultano a tratti un po' impastati e soprattutto in condizioni diurne, quindi dove la luminosità ambientale viene meno, devo dire che il rumore digitale è parecchio parecchio presente. Infine i video, i video che possono essere girati sia con camera frontale che con quella posteriore, unicamente a 1080p a 30 fps, peraltro senza alcun supporto a stabilizzazione né ottica né tantomeno digitale. Peraltro, per quel che riguarda i video, devo anche sottolineare che a volte la messa a fuoco è un po' farlocca. Infatti, oltre a essere difficoltoso mettere a fuoco un soggetto ravvicinato, a volte il fuoco si blocca e quindi trasportandoci su un'altra visuale, beh, praticamente non abbiamo la messa a fuoco. E quindi questo è fastidioso. Qual è la soluzione? Buttare via questo dispositivo? Certo che no, perché vi basterà installare la Gcam, arrivata peraltro alla versione 8.4, e risolvere drasticamente la situazione, portandovi a casa degli scatti decisamente più piacevoli, più definiti e soprattutto più reali per quel che riguarda i colori catturati. Insomma, un dispositivo che sicuramente non definirei un camera front, ma, detto ciò, la fascia di prezzo cui si colloca sicuramente non avrebbe permesso di ottenere scatti miracolosi. Però già il fatto di poter risolvere con una Gcam è sicuramente una pezza non indifferente. E quindi qua arriviamo alle conclusioni, perché il Redmi Note 11 probabilmente non è uno smartphone perfetto, ma comunque risulterebbe perfetto per la maggior parte degli utenti, che comunque spendendo poco si portano a casa un dispositivo tutto fare. E poi quel piccolo modding, chiamavano così, tramite l'installazione della Gcam, risolve comunque un parametro importante sul mondo degli smartphone, ovvero la resa fotografica. Quindi, in soldoni, consiglio Redmi Note 11? Beh, devo dire sì, anche questa volta sono rimasto piacevolmente sorpreso e comunque soddisfatto dal terminale. Sicuramente non è uno smartphone che si indirizza a tutti, se cercate prestazioni ai limiti della fantascienza, lui sicuramente non fa al caso vostro. È un dispositivo equilibrato dal giusto prezzo e a tal proposito vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate la migliore offerta disponibile al momento, oltre che la recensione testuale dove trovare maggiori approfondimenti anche di tipo tecnico. Quindi, detto ciò ragazzi, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Ciao! Ciao!